A Larino e in tante altre piazze italiane la campagna nazionale sul pubblico del partito della rifondazione comunista dal titolo c'è bisogno di più pubblico subito lavoro pubblico più diritti. Il PRC chiede dunque più pubblica amministrazione e nel dettaglio l'assunzione di 500 mila lavoratrici e lavoratori stabili e consistenti aumenti salariali in tutti i settori per avvicinare l'Italia agli standard europei. Il ritorno nell'ambito pubblico dei servizi esternalizzati, la cancellazione di tutte le forme di precariato, il rigetto dei tentativi di rendere strutturale la didattica a distanza, l'eliminazione nella pubblica amministrazione di tutti gli ostacoli occupazionali. In questi ultimi tempi sembra che le responsabilità di questa epidemia vengono scaricate tutte sui lavoratori pubblici. C'è una sorta di attacco, vi privilegiate e non privilegiate, ma molte volte i lavoratori pubblici sono quelli che magari prendono anche 1200 euro al mese e prendono dei stipendi normali, come gli infermieri che in base alle percentuali europee sono quelli meno pagati. Il sit-in non a caso davanti al vietri di Pilarino, simbolo per rifondazione comunista dello sperpero di denaro pubblico e del fallimento della sanità pubblica molisana. Questo ospedale per noi deve riaprire con un reparto Covid ma anche con tutti i servizi che esistevano una volta, che erano pure all'avanguardia, tipo per esempio oculistica.